Saranno i primi due fine settimana di novembre le date protagoniste di Garfagnana Terra Unica che si svolgerà a Castelnuovo Garfagnana presso l'impianto di Piazzale Coppini. Sarà la Sagra delle Sagre della Garfagnana che segna la ripartenza dopo la pandemia seppur nel pieno rispetto delle regole. La manifestazione può essere descritta veramente come il Salone del Gusto Garfagnino dove i protagonisti sono le tante comunità che si adoperano durante l'anno ad organizzare eventi gastronomici nei propri paesi proponendo tante tipiche specialità. Quest'anno per evitare assembramenti le associazioni sono state divise in due blocchi uno per ogni fine settimana in modo da garantire anche a chi lavora il rispetto del distanziamento. Il Salone del Gusto della Garfagnana esprime proprio la forza, le potenzialità straordinarie legate ai prodotti della nostra terra, a come vengono cucinati e alla forza che hanno da un punto di vista di promozione del territorio e soprattutto è una valorizzazione straordinaria della cultura delle nostre comunità. Quindi uno sforzo importante e un momento di ripartenza veramente per tutti significativo. Prima della conferenza stampa molto partecipata alcuni giovani studenti dell'ISI Castelnuovo hanno partecipato ad un corso di aggiornamento sul turismo utile per poter svolgere il ruolo di guide turistiche per coloro che arriveranno nel centro storico di Castelnuovo nei giorni della manifestazione, peraltro anche a bordo di uno speciale trenino.